bella a tutti ragazzi sono TheKingGal99 e siamo qui oggi con un nuovo video nella streaming ve l'avevo detto che ci saremmo visti con un nuovo streaming con un nuovo video però visto che oggi è domenica domani si rientra a scuola e io non c'ho un cazzo da fare ho deciso di registrarvi un video su code bello sciallo magari molti di voi si chiederanno perché io sono su black ops 2 sono qui su black ops 2 perché è il mio code preferito quindi di andare su world war 2 non c'avevo la voglia ok l'avviso ok già è morto ho fatto delle partite prima che ci stavano un botto poi ho incontrato un italiano abbastanza ambiguo che tipo si stava scoppiando di madman lo cantava e mi lasciava perplesso sincero non me ne ricordavo così le lobby di black ops 2 diciamo che l'argomento di questo video sarà molto a caso perché comunque ormai non c'ho più una cosa come posso dire il parlato che c'è una volta su youtube poi ultimamente giocando neanche ci sclero più di tanto quindi cioè poi dipenda dipende dalle lobby sapete come sono io ok certo che se si fa narrare così poi è normale che non ci sclero ma so ma li stavo facendo il culo li stavo facendo vi dico che oggi sto giocando a code tipo che non ci giocavo da anni in altro po' che c'è che posso assicurare che non ci giocavo da un botto oggi sto giocando sto facendo veramente belle partite anche l'altro motivo per il quale questo è il mio pod preferito cioè ci sarà un motivo cazzo ok qua c'è gente molto ambigua ecco esatto c'avevo ragione c'era molto gente ambigua no eh vabbè famasci famasci ho fatto triangolo triangolo qua si sa mai si sa mai qua sicuro c'è qualcuno mamma la n quanto è forte raga troppo forte lei nel 94 silenziale il quale dovrebbe esserci gente sicuro oddio questo non mi ha visto meglio così ok arrivano da qua ok aspettate eh no me la sponchilla di lui che palle non li volevo sponchillare io penso mi farò solo una partita perché comunque oh non è che devo stare ore e ore a registrare cioè che cazzo me la va a fare dio cane cioè alla fine io lo faccio per divertirmi capito mica per farci i soldoni oh bello ma ce n'è un altro tua madre sono a poco dall'elicottero stealth mi sembra un gameplay dimidino c'è ambigua ora un gameplay dimidino sembra che cazzo ok l'elicottero stealth ma che cazzo un gameplay dimidino è questo ok busat un mitino oggi la donna mi stava per uccidere questo sono in serie gg ok quello ce l'avrò tutti senza anima nooo non ce la faccio no vabbè non ci credo non ci credo non ci credo vaffanculo va stavo quasi instancabile stavo dai ma che cazzo no vabbè non ci credo prima partita ma faccio la nuclear un altro poco ma che cazzo ma che cazzo mamma mia che strage vabbè ora ne faccio un'altra quasi quasi dai 26-4 porco dio sto per fare la nuclear bagno peccato mi ha ucciso quel ritardato di merda ok ragazzi siamo qui nella seconda partita sperando che vada bene come la partita di prima che è andata veramente di Cristo è andata non me l'aspettavo di fare quel risultato sincero non gioco a code da un bel po' cioè ogni tanto accendo la plate 3 e mi faccio qualche partita a black ops 2 ma what the fuck ma la mi ha lasciato perplesso quella partita di prima molto perplesso cioè io che mo faccio la nuclear su black ops 2 bagno c'è tanta roba c'è il king vi porta la nuclear sul suo canale infatti non ve l'ho portata perché sono morto eh 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 che basta ok allora ui mazza l'aveva visto vabbè dai ma questo è pomaggio dai ma sarò lindo junior c'ho contro ma che cazzo vaffanque la mamba via di qua no lo abiti di stu uuu cagato l'ucazza orco mastro lindo junior ma le calma il cazzo la cazzo e muero vaffanculo a mamba questa cazzo di 5-7 margiare ok oddio non stavo parlando più mi ero proprio scordato che stavo recando rega what stavo proprio in gabbo mod stavo proprio stavo proprio tryhardando proprio io quando so sti momenti morti mi sto zitto non dico un cazzo perché mi devo concentrare proprio per questo per tenere i riflessi pronti sennò mi fanno il culo questi sti nabili merda ok sono morti ui per questo dico io mi devo concentrare non c'è una puttana no no non vi fate uccidere no mastro lindo junior era uno dalle helicopter dai che palle ciao belli eh madonna santa ma che tengo oggi eh tua madre puttana tengo oggi madonna rega le stragi le stragi mamma mia ok ciao buona madonna mi cecchino non è una cosa assurda veramente questi sono optic sprat proprio che se è più bello fate sprat c'è un bel po' di gente giusto ma madre ma madre beh qualcun altro ok a posto è finita 24 5 è andata bene è andata bene è andata cazzo bene comunque ragazzi spero che il video nonostante tutto è un'attività suprema che ormai sapete bene il mio non saper più parlare nel video spero che comunque vi sia vissuto lo stesso vi abbia intrattenuto ho fatto secondo me due belle partite poi magari me lo dite poi nei commenti come sono andato peccato per prima potevamo fare la nucleare se magari l'avessi fatta prima la serie e fossi stato più attento ai nemici e niente dai e noi ci vediamo al prossimo video ciao